Siena Nord e Siena Sulla A12 per lavori chiuso lo svincolo di Colle Salvetti in direzione Genova e quello di Pisa Nord in direzione Livorno. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze in via del Melarancio per scavo urgente blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!